Ecco qua, è anche la Maiella, inizia bene, sono passata una strada, aspetta piena di buzzer a questa calma vediamo di non piantare il culetto per terra niente, bisogna stare piena se devo fare le curve non c'è mai arrivato, pazzi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.